Basta chiederlo ai baristi della quinta strada. Se scopro qualcosa la chiamerò. Ah, se non sono in casa, lascia un messaggio al maggiordomo o alla donna delle pulizie? Donna delle pulizie. Donna delle pulizie. Donna delle pulizie. Donna delle pulizie! 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 Mi scusi. Ma perché ha fatto questo? Quando avevo sette anni, mio padre fuggì con una donna. Quella donna lì. Mia madre morì di crepacuori. Adesso ogni volta che qualcuno dice donna... Quella donna lì. Mi ho aperto la testa. Oh, povero caro. Adesso capisco che volesse estrangolarmi. Ma non lo dirò mai più. Grazie. Ci vediamo, pambola. Donna delle pulizie! Eccolo. 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 Eccolo.